Ciao a tutti e bentornati sul mio nuovo video o benvenuti a tutti i nuovi iscritti sul mio canale se siete nuovi potete iscrivermi qui sotto e ricordatevi di attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sui miei nuovi video mi potete trovare su instagram come sempre su jannaka shining mom vi lascio qui il video dove potete trovarmi e link li trovate tutti giù in info box oggi parliamo ancora di skin care ma andiamo a parlare a fare una recensione è un unboxing della maschera alla luce led non vedevo l'ora di parlarvi proprio di questa maschera qui su youtube così che anche per voi possa essere utile questo video quindi oggi andiamo a parlare di questa maschera a led a luci quindi infrarosse della del brand imesama allora intanto si presenta in questo modo come potete vedere questa è la loro confezione allora se siete interessati a questa tipologia di video andate avanti e guardatelo fino alla fine così che vi faccio vedere l'unboxing quindi andiamo a vedere che cosa c'è all'interno del della confezione e andiamo a vedere l'utilizzo e tutte le caratteristiche di questa maschera allora io sono andata a girare la camera perché mi trovo molto più comoda fare l'unboxing in questo modo che c'è avendo la telecamera girata verso di me perché è quasi impossibile quindi vi faccio vedere che cosa contiene il cofanetto e come si presenta innanzitutto andiamo ad estrarre proprio questa questo involcro dove è la stessa immagine del cofanetto e dietro trovate alcune istruzioni però all'interno poi troveremo anche il libretto delle istruzioni dove c'è scritto veramente di tutto vi faccio vedere intanto che cosa troviamo all'interno allora all'interno la troveremo in questo modo allora innanzitutto troviamo la maschera questa qui questo è il bottoncino di accensione e di spegnimento dietro troviamo l'occhialetto in silicone la cintina da mettere dietro la testa e il poggiamento questo si regola la cosa buona è anche quello quindi non tutti i visti sono uguali quindi è spettacolare questa cosa e poi se vedete all'interno ci sono tutti questi led ma dopo andiamo a vederla nello specifico accesa poi troveremo questi due cofanetti allora qui andiamo ad aprire qui che l'ho aperto all'interno praticamente troveremo il telecomando che è questo piccolino qui eccolo qui dove accendendolo troviamo tutte le programmazioni che vogliamo poi fare come trattamento poi troviamo l'altro cofanetto a qui c'è anche il cavetto per ricaricare la maschera quindi potete agganciarlo ad una spina o al computer direttamente ma tanto qui comunque c'è scritto tutto sulle istruzioni apriamo l'altro cofanetto ecco qui che l'ho aperto e all'interno praticamente andiamo a trovare il sacchettino per andare poi a riporre la maschera quindi è veramente fatta benissimo perché possiamo tirare via la scatola e tenere sempre pronta all'uso la maschera e di vellutino è veramente fatta molto molto bene e poi troviamo i libricini delle istruzioni con una mano è un po difficile però ce la possiamo fare tutti tutte le informazioni le troviamo all'interno in tutte le lingue e comunque poi vi farò vedere tutto nello specifico eccomi qui che sono tornata tra voi ci tenevo veramente in particolar modo a farvi questa unboxing così che potesse essere utile anche per se qualcuno di voi volesse ordinarla sul sito della imesama così che vedete come vi arriva il cofanetto come si presenta se volete fare un regalo e quindi veramente è sia la confezione che come si presenta è veramente molto molto elegante devo dirlo e mi è piaciuto veramente tantissimo vi faccio una piccola premessa non so quante di voi sapevano già che il trattamento alla luce led quindi alla luce rossa blu verde e tutte le altre luci a lunghezza d'onda già esistevano da anni e anni addietro nel campo della medicina estetica e nel campo della dermatologia veniva praticamente usata per curare gli anestetismi della pelle come ad esempio ad esempio l'acne la psoriasi e tutte queste problematiche qui però ancora non esisteva un dispositivo da poter utilizzare a casa più o meno alla pari del dispositivo che poi viene usato nei centri medici estetici e dermatologici e molte persone praticamente hanno detto che la sua efficacia è veramente veramente alla pari di quella d'ambulatorio praticamente io adesso vi faccio vedere praticamente tutte le funzioni di questa maschera a led e come viene indossata allora come vi dicevo comunque già dall'unboxing i due dispositivi principali da adoperare è la maschera in questo caso che andremo poi ad indossare proprio in questo modo mettendo l'elastico dietro la testa e il telecomando per poter programmare praticamente tutte le modalità che volete allora questa maschera è la nuova tecnologia anti invecchiamento e unisce la terapia anti invecchiamento alla luce rossa infrarossi clinicamente testato come vi dicevo praticamente che dopo due settimane praticamente andremo ad avere l'effetto desiderato io adesso vi farò vedere come si presenta sia nell'accensione e le colorazioni e come viene praticamente indossata come prima cosa andiamo ad accendere la maschera in questo modo allora se il led verde lampeggia vuol dire che la maschera è praticamente con la batteria completa quindi ci consentirà poi di fare il trattamento da 5 10 minuti o comunque i minuti che uno vuole allora utilizza due colori questa è una maschera che utilizza due colori allora voglio fare una piccola premessa non è la quantità di colori che fa la maschera più professionale o comunque più ad effetto no praticamente l'importante è che le funzioni sono quelle che gli studi hanno approvato praticamente allora andiamo ad accenderla e andiamo a programmarla allora iniziamo subito da qui dalla luce rossa non so se si vede perché veramente la luminosità eccola qui riesco riesco questi sono i led rossi perché ci sono cinque modalità per utilizzare questa maschera allora l'efficacia della luce rossa più l'infrarosso è praticamente la combo perfetta è il trattamento che voi potete andare a fare che è quello più completo per avere un risultato anti rughe alla massima efficacia ripara e rinnova gli strati più profondi della pelle quindi il trattamento con la luce rossa è praticamente quello più efficace per gli inestetismi della pelle andiamo ad indossarlo in questo modo e andiamo ad applicare così possiamo farla sia da sdraiati che da seduti da in piedi o mentre facciamo qualche cosa la bellezza di questo trattamento che possiamo portarlo praticamente ovunque in macchina cioè stiamo non guidando se 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 siamo in viaggio ce lo vogliamo mettere vogliamo stare vogliamo possiamo farla in albergo dove volete in strada ma vabbè forse non è proprio indicato però ci dà la possibilità di avere un trattamento completo dopo la cosmesi che comunque quotidianamente andiamo a mettere la skin care e tutto il resto è un ottimo trattamento da poter avere in casa e non è di meno da quello estetico che si utilizza negli ambulatori andiamo a provare l'altro programma come potete come potete vedere vabbè ci ritorno dopo vi faccio vedere intanto il led blu guardate vedete quante lucettine quanti led ci sono allora la luce blu io ho messo il programma non so se si vede guardate il 5 dopo vi spiegherò tutti e cinque i programmi questa praticamente è la luce blu ed è una super efficace ha praticamente un'efficacia su acne molto gravi anche e pulizia ristringe praticamente i pori dilatato e otterremo un risultato lenitivo quindi è spettacolare per tutte le pelli sensibili arrossate comunque quelle pelli acne che sia brufolini punti neri oppure proprio acne quelle più infiammate infatti ha un'azione antibatterica e io la trovo veramente super efficace e questa la possiamo mettere allo stesso modo in questo modo e possiamo utilizzarla praticamente in tutte le parti e andiamo a programmare con il nostro telecomando allora vado a spegnerla ok potete fare tutto tramite il telecomando e poi potete andare a spegnerla qui però io volevo farvi un attimo vedere le funzionalità del telecomando sperando che si vede bene allora il telecomando è possibile impostare praticamente cinque modalità rosso 5 che praticamente è la luce rossa più gli infrarossi che è una combo come vi dicevo perfetta per avere dei risultati veramente eccezionali e praticamente sarebbe questa qui allora eccola qui quindi luce rossa telecomando programmato a red non so se si vede purtroppo speriamo vediamo lascia poco comunque red 5 praticamente avete la possibilità di avere un trattamento per cinque minuti quindi lavoreranno insieme i led rossi con gli infrarossi insieme e avrete un un risultato efficiente poi andiamo a impostare potete impostare come vi dicevo sempre la luce rossa ma con 10 minuti non so se si vede bene comunque più o meno comunque poi c'è scritto veramente tutto sulle istruzioni è spiegato veramente benissimo e potete impostarlo o cinque o dieci minuti possiamo ad andare a mettere il led rosso quindi la luce rossa impostata a blu 5 praticamente avrete un trattamento di cinque minuti se andiamo a posizionare su blu 10 non si vede perché praticamente qui è già sceso il sole sono riuscita adesso a registrare questo video perché ci tenevo veramente tantissimo condividerlo con voi e praticamente potete stabilire voi la modalità o cinque o dieci minuti allora l'utilizzo di questa maschera fatto dieci minuti al giorno per tre volte alla settimana già dopo due settimane vado a perché se no non riesco con la luminosità avrete un risultato veramente visibile già a occhio nudo cioè già si vedrà sul vostro viso che avete avuto miglioramenti io penso di aver spiegato benissimo spero questa maschera ci tenevo veramente tantissimo perché la trovo un dispositivo veramente eccellente eccellente può utilizzarla sia la donna che l'uomo quindi non c'è diversità poi una volta finito il nostro trattamento andiamo a riporla nel sacchettino riparapolvere guardate che è fantastico e potete portarlo veramente con voi io la trovo veramente fantastico non vedevo l'ora di provare questo questo dispositivo ci tenevo veramente tantissimo e ringrazio l'azienda in mesama per avermi dato la possibilità di testare di provare e di parlare a voi di questo fantastico prodotto quindi io ve lo consiglio per me è approvatissimo e spero che questo video anche per voi vi sia stato utile se così fosse se volete lasciatemi un like a supporto del canale io penso di avervi detto tutto su questo video se avete qualche dubbio qualche domanda o qualsiasi cosa volete domandarvi vi aspetto giù nei commenti sono sempre disponibile a rispondervi mi trovate su instagram dove posto pubblico storie e vi tengo sempre aggiornate più o meno di tutta la mia quotidianità anche se ultimamente sono un po' più ma purtroppo Raffaele sta sempre male e automaticamente non so se mi sentite con la voce anche io lui porta a casa non so di qualsiasi e a chi attacca in famiglia a me vabbè bando le ciance io vi ringrazio di essere arrivati sin a qui su questo video non so cos'altro dirvi io penso che ho detto veramente tutto io vi saluto sempre con un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao